Buonanotte, allora la stiamo raccogliendo tutti i dati delle signore che stanno in casinio al supermercato e allora ognuno sta facendo la sua denuncia diciamo. Allora io ho scritto per questa qua che è stato rubato il cellulare, virgola, messo la virgola così diciamo, creiamo anche le distanze giuste. Codesto cellulare è stato preso con la forza e storto. Vai a vedere la signora? Può essere, giustamente, in certe volte. Abbiamo avuto la conferma, comandante, il cellulare stava dritto. Era dritto. Confermato. È un cervello? Ha chiesto il cervello? No. Ve lo dico io, è storto e ha bruciato. Questo è una cosa storta, l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata.